Vorrei rivolgere ovviamente con grandissima discrezione e umiltà un invito anche all'altra parte, al centro-destra perché le primarie sono una cosa importante, perché sono un momento di partecipazione, sono un momento di condivisione democratica delle scelte dei candidati e quindi credo che sarebbe importante, sarebbe bello che anche dall'altra parte, ovviamente rispettiamo le scelte, ma sarebbe bello che anche dall'altra parte, di dove si devono decidere le candidature, si utilizzasse lo stesso sistema. Magari avrà qualche problema, avrà manifestato qualche piccola incongruenza, ma complessivamente la scelta delle primarie credo che dovrebbe espandersi il più possibile, far partecipare le persone, anche questo è un modo di avvicinare e riavvicinare la politica ai cittadini.